Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video qui su Farming Simulator 2015 oggi siamo qui per presentarvi finalmente la decima puntata della serie Norgeholm e sono in compagnia del nostro straccia mutande Marchetto87 eccolo qua guardatelo buonasera a tutti io come sempre presento il mio amico nulla facente 22x2288 buonasera a tutti e sono in compagnia anche con il comasco il terromasco quello qua Grimarco99 bello a tutti ragazzi bello a tutti ragazzi non terromasco l'è il lamento quello lamento perché mi voglio a barra la mais più grande e anche la trevia si la metto la fai mona dai quando è che la compriamo la barra da mais più grande oh la metto due dai mona te va eh se non avessi distrutto tutti i mezzi avremmo i soldi per comprarla ciao 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 con questo qua del fianco con questo asomento buona sana dai muovate non sta qua a perdere tempo dove sta andando è già partito è già partito a fare dei danni è già partito già partito benissimo allora ragazzi oggi raccoglieremo le barbabietole e si avanza tempo incominciamo incominciamo con l'allevamento di qualche bestiolina incominciamo con il con i polli con i chicken e vedremo un po' di portarci il necessario non so che cosa hanno bisogno ma penso che abbiano eccole qua acqua paglia la reazione mista patate vabbè la reazione mista mi sa che se la dimenticano finchè non incominciamo con il silato si accontentano del grano e delle patate e della paglia oggi ragazzi puntata notturna mi fanno lavorare anche di notte a noi? a luna di notte non è che sei te che ci fai lavorare di notte a noi operai no ragazzi stilo operai il dito lavora ehi dai bagaisha molto dai bagaisha va che se trenta puntate quando sei che tommo le ah le 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 cosa idropulitrice va via quel cammino stia ragazzi va via dai la compriamo la la compriamo subito l'idropulitrice va via niente 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 devono farne il casino adesso mi ci metto anch'io a fare casino eh adesso mi ci metto anche a lavorare già tu si mi ho messo a lavorare visto che sono l'unico che voglia fare qualcosa o no dai che marchetto si niente 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 a posto ci licenzia tutti ci licenzia eh dai nel frattempo io comprerò l'idropulitrice così almeno marchetto è contento ok posizionare posizionare comprata l'idropulitrice e vai oh le le oh la la ah ce l'hai fatta ah ce l'hai fatta di spiegarlo quel cacchio di carrello lì eh è un'ora che sto provando a venireci sotto che non dice niente ah stai fermo ovunque il mestiero guardate guardate quante pamparumenta qua mato solemmo dai fai guardatelo si in mezzo alle pannocchie eh mi raccomando eh dai per i 100 iscritti druido vi farà un fuck dove farà vedere il suo viso un fuck chi è che ti facchi ti facchi tu prendo bottele a spacco famiglia io prendo botte mamma mia cominciamo a dar del danno qui eh io vado farmi in giro intanto da che mi faccio un giro come minimo farò per le scatole a market uomini evapora 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 vada via mezzo trattore e che è colpa della nostra mente c'è un po' di lato per esempio fermo ma come mai scaricando scarica già scaricato levasse anche per le scatole 3 dai ragazzi noi andiamo un po' avanti qua a rifare tutto quanto c'è e ci rivediamo dopo quando abbiamo finito il campo eccolo lì questa è epica datemi una medaglia sì, datemi una medaglia bisogna darti il carcere a vita cioè io non ho parole voglio una screen la faccio sì la screen però non è possibile una cosa del genere finalmente ultima passata ragazzi abbiamo quasi finito con sto mestiero qua oh marchetto dov'è l'avete e vedi sentito e sparito ha detto che è uscito perchè andrà a letto che avevano l'alzazione 4 che c'è il turno però adesso che tra l'altro che in compensa eccolo è arrivato il suo fratello ciao a tutti 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 sto legando chi è questo? chi è questo? questo? è è è c'è chi sei? è chi sei? sono si sono tue sorella che vuoi che sia non sei mia sorella sono tuo papà come choqueato e poi lulli oh mamma è mona si o no scusa mi piace oh mamma mia come choque oh ma sopra te lo è ci un po' più di me dai devo fare così bimbo mi riuscìa ma che qui non va più caldo ah vai mona ah vai mona va ma nooo non dire così ma vai mona ma scusa ma se facciamo dai sento un attimo dove l'avete lasciato marchetto dove è sparito marchetto ridatevi marchetto esatto esatto ce l'ho va bene poi lo salutiamo marchetto marchetto segnati dove l'avete messo marchetto allora ragazzi compriamo i chicken eh come qua oh ben arrivato oh mato fratello mato fratello gian francesco l'avete l'avete il mio support non è masso a posto poveretto e poi va a ciuccia a ciuccia eh sì allora ragazzi abbiamo preso dai del giugno 10 chicken oh va che ti sta chiamando eh chi è eh ti sta chiamando il suo fratello lo sto sentendo io no lascio stare poverino ancora cosa che sei va via no adesso sono con me va via 2 minuti perché lo usare ancora sto sto qua non lo so ragazzi povero sto povero putteo eccovi qui eccovi qui eccovi qui madonna do carmine oh che bello che sono le barbabietole dove diavolo sono le barbabietole no sono le prossime ah no ci vogliono le patate dei polli eh sì non so te la patata è sempre la patata della patata eh eh certo eh come mai non lo so non lo so mica tu cosa sindrì o fare vado vado a portare le patate ai polli io devo portare qualcosa ai polli marco fai una cosa carica prendi l'altro l'altro carro si e ci carichi un po' di grano ma tipo 4.000 5.000 3.500 4.000 litri non di più perché sono solo 10 ok e io cosa ne faccio e tu ciappe l'intel no serio non carica aspetta ma sei un mona 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 macchina avanzata nascondiglio anche e vai scariciamo qua i barbabietole no guarda prendice ne 500 litri perché chi che ne è proprio chi che ne sta niente ma proprio chi ne sta niente sui pullet si ai chicken sto arrivando sto arrivando non ti preoccupare abbiamo un impianto che pompa Dusamp Burns oh oh tries il gruppo dei ninja oh 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 ma che è stato cosa è successo qua 121 sempre anche che si è messa e hai buy sempre mamma mia ma come hai 4 ma vai starli a ritorno a rinforzato il momento in questo momento adruido preferisco preferisco il fratello di marchetto non torno migliori dopo il tuo silenzio poveretto ma anche se la chiesa qualche problema non c'è problema però cammo la massa problemi non è un po' come le agrivia un po' come le agri dai dove devo scaricare il frumento nelle silo il silo si c'è un silo dove scaricare la barbabilia e le patate io c'è il silo di bianco esatto amore mio bravo la tua sorella amore mio finocchiaccio che non sei altro il frumento va dentro è il frumenton che pare sto afferro del merda sto afferro del picchio eh buon figlio del giro sul topo 30 bravo vuole un applauso ne ho finito le paglie adesso eh fatto un quattro pari eh aspetta però hai appena finito di scaricare no sono due no adesso ok lasciami stasso un po' di paglia che mi serve per eh ah aspetta che arrivo si vai su ic che ne scaricagliela ok ok ho scaricato hai scaricato grande marco scaricato alle faccia quali hai scaricato ma io ma sei un po' non è ma non ti vergogni un si può essere una capra a te bene ragazzi e vai abbiamo cominciato con i chicken con i chicken poi ci tiriamo il collo e ce li papiamo esattamente oh yes o li vendiamo e dopo visto visto che le coltivo a e persone come agri ovviamente dopo i va a finire il don e ovviamente maciullati al mcdonald ok ragazzi anche marchetto sta rientrando e purtroppo ormai il nostro tempo è ormai finito quando ne ci pagate? eeeh quando arrivano i soldi e quando lo smetterai di distruggere tutti i trattori ok quindi mi sa mai più vero? vendrio 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 dai fagli la manovra vendrio vendrio non ti fidare perché ti fa andare giù guarda 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 dai ti muovi o no? ahahah guarda mi metti davvero sotto guarda solo che hai bocca se ti muovi per la par niente guarda ohcio ohcio mona di mona eh mona ti sei peggio del bulldr oh 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 porca bestia se ho la fisica di farming questa mamma mi fate morire no va via ma so te ti preoccupo a dire te alzo no ma il muro ha volto dai la mento e qua no io faccio la chiesa seria sì sì vedo orca bestia se non riesco a salire orca bestia ce l'ho pure riuscito aspetta eccolo guardatelo sulla vena aspetta un po' che accendo la luce vai ok ok ragazzi non non ci rimane che salutarci vi invito a lasciare un like ed un commento ragazzacci mi raccomando spolliciate in su come bestie e anche il mi piace mi raccomando esatto esatto spolliciate spolliciate qui da x2288 è tutto e da marchietto87 è tutto e da agrimarco99 è tutto sulla benna ragazzi ciao a tutti alla prossima bella gente ciao raga ciao belli ciao 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 ciao